il mondo dei mercanti è il mondo in cui per citare il giovane hegel jenese la vere domina sull'essere in cui si è nella misura in cui si ha si vale nella misura in cui si ha valore economico e quindi il mondo del capitalismo è un mondo di puro materialismo che non conosce spazio di trascendenza ed è davvero un mistero come la filosofia marxista abbia pensato di poter contrastare il capitalismo metabolizzando la sua stessa visione iper materialistica non è questa la sede per affrontare il tema me ne sono occupato in alcuni miei lavori come idealismo e prassi il materialismo è la forma del di pensiero non solo coessenziale alla logica di sviluppo del capitalismo ma è la logica di pensiero che meglio si confà all'accettazione del capitalismo il capitalismo è materia quantificabile e vendibile d'accordo ma lo sguardo del materialista è come già sapeva bene fichte lo sguardo di chi accetta l'ordine delle cose perché sono lì davanti a noi ci sono sono lì e io come soggetto devo rispecchiarle riconoscendoli nella loro materialità esistente il realista materialista diceva fichte nella prima introduzione alla dottrina della scienza è per necessità colui il quale sacrifica l'io per il non io il soggetto per l'oggetto e quindi finisce per essere dogmatico che nella terminologia di fichte vuol dire puro accettatore e accertatore delle cose come sono sarà invece solo l'idealista diceva fichte a sacrificare il non io sull'altare dell'io e a pensare il mondo non come materia data ma come spazio del dovere come spazio della necessità della doverosità del nostro agire il mondo è quello che noi ne facciamo agendo il non io è il risultato del nostro agire ora che solo su una visione idealistica possa costruirsi una teoria rivoluzionaria appare su queste basi difficilmente smentibile il materialismo produce la adequatio rei et intellectus c'è il mondo materiale dato io lo accetto e lo accerto così com'è che è la critica che fa marx a feuerbach a ben vedere nelle tesi su feuerbach per l'idealista invece il mondo è posto dal fare soggettivo è il prodotto dell'io che pone il non io e che poi lo trasforma e quindi fictianamente si tratta di essere idealisti e rivoluzionari e non dogmatici materialisti marxianamente si tratta di cambiare il mondo e non di interpretarlo soltanto ecco su basi materialistiche difficilmente si potrà fondare una rivoluzione o una teoria rivoluzionaria a proposito del materialismo esasperato della civiltà dei consumi valgano come mod ordre le parole che una nota cantante che per ironia spietata della storia si chiama madonna diceva in una sua canzone di qualche anno fa i am a material girl in a material world c'è solo materia null'altro che materia questo è il nostro mondo nessuno spazio per la trascendenza per il sacro e men che meno per l'anima